Si riferiscono a storia? Non l'ho mai mandato, non sono della gente che non so neanche di segnare. Questa è una mano, è una vera inversione tra l'altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, secondo mio fratello, io la ritrovavo incompleta perché non ho trovato dei titoli che più o meno mi ricordavano. Lì si toglierà l'ospizio di vedere quante ristampe hanno fatto delle sue storie, in Italia soltanto. Solo in Italia. Però mi dirò di prendere questa a fare qui, fanno una fotocopia, mandarla allo Disney e dire allora calcolando un euro per un centesimo di euro io voglio X milioni. Guarda, questa qui è rimasta una scura. Grazie, comunque me lo guarderò a casa con un passo adesso. Non voglio farlo, non voglio farlo, non posso farlo. Ci metti a questo livello? Sì, poi si fai roba me, poi se volete a me cura.